Mi chiamo Sofia Rune, vengo dall'azienda Terreno e la mia famiglia sono i proprietari dell'azienda. Siamo una famiglia svedese, arrivati 35 anni fa e abbiamo cominciato a fare vino per questo bellissimo posto del cliente classico. La cosa che mi ha fatto più soddisfazione negli ultimi anni è quando l'azienda è stata veramente a 360 gradi sostenibile nel fabbisogno aziendale, vuol dire elettricità, acqua, riscaldamento, vino, olio, tutte le verdure e possiamo veramente vivere su quello che è il suolo e tutto quello che circonda il terreno. Spero che le persone che assaggiano il mio vino sentano proprio il lavoro dietro il vino, il nostro posto terreno, il nostro luogo e tutte le persone che dietro i vini hanno lavorato per cercare di trasmettere questo posto. Mi piace confrontarmi con la natura, confrontarmi con delle persone e cercare di fare il meglio ogni anno con le vigne che abbiamo e con le persone che sono intorno a me.